E' la vicina della patata, qui è vicina, è vicina della patata Questa è un proposto dove va la casa nostra Questa è un proposto dove va la casa nostra La macchina è la città La macchina da l'argomento E' un po' di carta Ha fatto la macchina Questa è la città C'è una macchina qui ha fatto la macchina E' una macchina qui ha fatto la macchina E' una macchina qui ha fatto la macchina Facciamo di su? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info